Musica Saluti ragazzi, non sei prima mezzo, benvenuti in questo nuovissimo video di Caldera Caldera con i nostri falchi Come state ragazzi? Spero tutto bene Se vi siete persi l'episodio da presa niente andate a recuperare ragazzi perché ha iniziato il vero calcio mercato Quello che dura due mesi, quello che tecnicamente in una carriera allenatore normale sarebbe il calcio mercato estivo Da noi è nei mesi estivi ma dovrebbe essere quello invernale perché alla stagione dell'iniziativa non capita assolutamente nulla Ma signori siamo con i falchi e abbiamo già fatto un acquisto che vedete spoilerato lì sulla destra ormai è saltato Se vi siete persi l'episodio da precedente andato a recuperare perché adesso dobbiamo parlare di altri possibili colpi Dobbiamo soprattutto, forse credo, terminare luglio e abbiamo due partite per fare almeno un altro assist con un terzino Dobbiamo farlo ragazzi Dobbiamo farlo Obbligatoriamente Quindi, iniziamo subito Allora, mi è arrivata, mentre avanzavo, un'offerta per il prestito per Augen Eccolo qua, il nostro sedicenne Loro però vogliono il diritto di riscatto Assolutamente no Glielo diamo così Poi, cos'altro? Dato che nello scorso episodio abbiamo trovato Con un grazie, una bella botta di cool Pavo cool Che sarà probabilmente il mio portiere titolare di tutta la carriera Credo, non lo so, 15 anni, 60 Gli abbiano dato il piano di crescita ragazzi? Sì, glielo abbiamo dato, molto bene Mi avete detto di mandare in prestito, così non gli blocchiamo la crescita L'altro portiere che abbiamo trovato Ottima promessa Lo diamo in prestito? Sì Mentre arma l'abbiamo messo sul mercato E visto che abbiamo già trovato anche ragazzi il portiere giusto Io, quasi quasi, il mio staff primavera islandese Che sta seguendo un portiere Lo richiamerei Lo richiamerei, lo manderei già a cercare dell'altro L'estone invece lo lasciamo Avanziamo un attimo ragazzi Offerta per il prestito di Augen Un'altra E deleghiamo uguale Senza diritto di riscatto Arriva poi un'offerta Di 6.8 mili Cioè no, in realtà l'offerta è di 3.8 Io potrei chiedere fino a 6.8 Per il momento rifiuto Hansen Possiamo provare magari più avanti Se non ci dovesse convincere A venderlo sicuramente Ha molto, molto, molto di più È già tornato il nostro osservatore E direi che lo possiamo già mandare ragazzi Lo stavo per licenziare Dove lo mandiamo? Lo mandiamo in qualche posto Strambo Qui non abbiamo la possibilità di mandarlo da nessuna parte Mentre qui abbiamo Di queste sbloccate La Lituania La Lettonia La Polonia Bielorussia non c'è Se lo mandassimo Mandiamolo in Lettonia Dai Un bel tre Un bel qualsiasi di tre mesi Vai 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 in Lettonia Come vi avevo chiesto nello scorso video Io sono alla ricerca ragazzi Di centrocampisti E Mi avete detto Che Nell'Underlecht Ce ne dovrebbe essere uno Molto, molto intrigante Che non conosco E quindi lo andiamo a cercare insieme Dov'è l'Underlecht? Eccolo qua È lui? Mi sa proprio che è lui Caspiterina Un altro sedicenne però Oh, famo l'asilo nido ragazzi Mortangurelli Facciamo veramente l'asilo nido Però Come mi ha detto un ragazzo Sotto nel video precedente Queste sono le uniche carriere Dove si possono Provare Giocatori del genere E poi c'è anche un giocatore Dalla serie A Ovvero Martin Palumbo Che ha una clausola Rescissoria di un milione e trecento Vintiquattro Urca boi Prima di muoverci ragazzi Cuffiette Assolutamente alle orecchie Perché ho voglia di giocare E abbiamo La partita contro L'Orebro Ci andiamo con Questa formazione No Assolutamente Andiamo Hansen sulla destra Se gli usufai Cowell Se gli diamo un'altra partita Da titolare Devo però Assolutamente Far giocare I miei terzini Che spingono Un pochettino di più Andiamo in campo Con questa formazione Ma ho un sacco di cose Da dirvi Ho un sacco di cose Da dirvi ragazzi Ma un sacco proprio Ma Vabbè ve le dico dopo Ve le dico dopo Sempre sul pezzo E forza Falkenbergs Madonna Mi dimentico sempre Di prendere le pillole Pallone per facchi neri Attenzione Facchi neri Hansen Englund Ma sta palla per Se gli usufai C'è il vantaggio Del Falkenbergs Con Valakari Era giusto ragazzi Era giusto Peccato per l'assist Ma va bene così Va bene così Gli obiettivi che ci diamo Non devono influenzare Troppo Il nostro modo di giocare Qui era giusto Servirla a Valakari Era posizionato meglio Giusto che Donny Van de Valakari Abbia segnato E 1-0 Falchi Vede Se gli usufai Valakari Attenzione perché Largo c'è Ericsson Servito perfettamente La può mettere in mezzo Non la colpisce nessuno Non ci voglio credere Era bellissima Mannaglia Attenzione bella Questa Palla filtrante Per Hümet Che la mette in mezzo Facchi neri In qualche modo Chiude la palla Resta lì Ancora Hümet Questa è la prima occasione Per l'Orebro Che oggi sembra Un'altra squadra Rispetto a quella Che abbiamo incontrato All'andata Questa cosa faceva Strafigo dirla Ma non mi ricordo Assolutamente Come è andata La parità d'andata Forse abbiamo pareggiato Non me lo ricordo Ah Englude Svegliati un pochettino Occhio Occhio Mette La mappa Ma io non ho neanche capito Cosa è successo Ademi L'ha smistata Hansen Hansen Englude Ti prego Mettila bene Mettila bene E non è messa male Peccato che Valakari Veramente No Si è spaccato Si è spaccato Valakari Si è spaccato Valakari Allora Mettiamo Hansen E facciamo Interrare Michelson Hansen Lo spostiamo Lì sulla tre quarti Porca miseria Oh manco mi fai fare il cambio Erickson Vai te Vai te Vai te Vai te Vai te Ti prego Erickson Fai qualcosa di buono La tua carriera Non è male la palla per Hansen Kate 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 Cowell Online La blocca Io sono imbarazzato Erickson Io sono imbarazzato Erickson Cioè io sono veramente Veramente imbarazzato Ma cosa ho appena visto Io vorrei sapere Facchi neri Comunque Nel dubbio Lancia Erickson La può mettere in mezzo Qualcuno ragazzi Che spinga Su quella fascia Cioè qualcuno che Cioè ma uno Ma qualcuno Devi chiudere gli sti cross No mi rifiuto Mi rifiuto Guarda là in mezzo Vedone Finita Non ho respirato Finisce qui signori Non facciamo l'assist Ma vinciamo 1-0 Grazie al gol di Valakari Per il quale sono molto Molto preoccupato Senza dubbio Vabbè Devo dire Partita abbastanza Meritata Ecco Allora ragazzi Aspettiamo un secondo Però Vediamo Quanto dovrà star fermo Figurati Englud Sono contento io per te Quattro settimane Ok dai Nel frattempo Arriva un'offerta Per il prestito Per Abramsen Lo start Sinceramente Io lo do volentieri Per due anni Per il momento Poi vediamo Ragazzi Vi volevo parlare Del giocatore Del Dei mesi precedenti E della giocata Dei mesi precedenti Perché Perché a inizio luglio Dovevamo votare I migliori Delle settimane passate E Come vi avevo già detto Ho inserito Per quanto riguarda Il giocatore Del mese Del semestre Dei mesi precedenti Erlanson Facchinerie Vede E Stravince Erlanson 700 voti 300 200 Per gli altri Quindi complimenti Erlanson Che non solo vince Il giocatore del mese Ma vince Anche Non con tanti voti Di stacco Ma Vince anche La giocata del mese In realtà non c'è una parata precisa Ma c'è una serie di parate Di Erlanson Che fanno sì Che Si meriti Comunque anche La giocata Del mese Ne ha fatte alcune Veramente molto importanti Contro il gol In pallonetto Di Ademi Quindi complimentoni A Erlanson Che vince due premi E Tra l'altro Il nostro portierone Sta Crescendo Per il momento È contento Del contratto Quindi vedremo Se Magari Rinnovarglielo Al momento In cui sarà Scontento O Cose del genere Allora ragazzi Volevo Vedere un attimo Un giocatore Che mi aveva Colpito molto Ed è Magnusson Il problema È che A parte che costicchia Questo Magnusson Del Calmar È che io speravo Potesse farmi anche Il centrocampista centrale Poi c'è La Tupa Che vale Veramente Veramente Molto E che mi piacerebbe Molto prendere Non è proprio Un centrocampista Centrale Ma In quella posizione Lì Ci potrebbe pure stare Attenzione Perché abbiamo Questo Simon Collin Canadese Sì Però Potremmo anche Metterlo a seguire Contratto di scadenza Fra sei mesi Ah Io aspetterei Un attimo Magari Ah Palumbo no Perché si è appena trasferito Aspetterei un attimo Arnstad Metti che ha già Un discreto overall Magari Possiamo provare A prenderlo in prestito E lo riscattiamo Poi magari In caso ci piaccia La squadra Se avete interessato Ad acquistare Anas Michelsen Con diritto di riscatto Ma assolutamente no Gioca con noi Comunque noi per il momento Siamo sesti 20 punti Dai ragazzi Che siamo a 3 punti Dal Gothenburg Che è terzo Accordo per il prestito Menzo Linsson Ah no Haugen Ok Accettiamo Dire che possiamo andare in campo così È forse Un'autodistruzione Andarci con Englund Conciato in quelle condizioni Ma vabbè Fa lo stesso Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza Falkenberg Ovviamente Mamma chi zittone Ma come sei entrato In questo campo Eh Io lo sapevo Che la pioggia Ti rendevano Oddio Al volo Mamma mia Anson Dove la stavi tirando Ringrazio al cielo Che ce l'han deviata Io non posso credere Non è mai successo Una cosa del genere Sono scioccato Per fortuna Che Bjorn Strom L'ha Un pippone Englund Oddio Chi è questo Girmai In età Vai Eh È Lansson Fuorigioco Ma come fa ad essere fuorigioco Mi ha segnato l'Atalanta Porco cane Speravo che Erlansson L'avesse già superato Ma invece no È buonissimo È buonissima Guardate Guardate Per quanto poco Per un Per un Per un Facchinè risteso Praticamente Oh sto stall qui Con questo crestino Oh Madonna Oh ma Ah niente 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 Ho subito Tre falli In 24 millisecondi Non me ne ha infischiato mezzo Bravo Demi Madonna ragazzi Ma la classe Oh Ericsson No adesso scusate ragazzi Però Cioè Io ci devo anche almeno Provare È bastato pochissimo È bastato pochissimo Obiettivo completato Questo È il quarto Se non sbaglio Assist Dei nostri Terzini Ed è un grandissimo Assist Ed è un grandissimo Gol di Vede Al volo Non la spinta Importa Il difensore Vero ragazzi Sembra abbastanza Chiaro Che il tocco Sia di Vede Eh Vedone Pella Addirittura Ma sta future Da quando Da quando c'è Sta cosa qui Al pallone Scusatemi Ma c'è sempre stata Rotto Pallone rotto Praticamente Se ne su fai Addemi Madonna ragazzi Sapete che sto Addemi Qui mi piace tantissimo Non credevo Che l'avrei mai detto Chisitone 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 Riscattala eh Madonna mia Mamma mia C'è 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 Anse Madonna È lento anche sulla pioggia Bellissima Bellissima Questa palla Per Silvio Fai Hansen Da fuori Hansen Oddio Ragazzi ma Io l'ho vista Dentro Yes Buonanotte Menzo Bravo Kizzy No Ma direttore Ma Ma lei Non lo deve Intendere Così Lei lo deve Intendere Come voglia Di fare Ok 1-1 Una partita Discreta Allora Fuori Englund Ci andiamo a difendere un pochettino Cosa ci andiamo a difendere Vabbè Nettiamo Noren Vede Tu puoi farlo Tu puoi farlo Il mediano Friedolf Io oggi sento che Che me la risolvi tu Non so perché Spero nella porta Degli avversari Però perché Se no Casino Ma l'hai visto Nilsson Ma che apertura Hai fatto Bravo Garbet Bravo Bravi Riproponiti Riproponiti Friedolf L'apparata mito No vabbè Non siamo ben visti Quindi che zitto Madonna la devi riscattare Madonna la devi riscattare Guardate la falcata Della tigre Del bengala Vedone 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 2 a 1 Anton Vede Sì 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 Ci vede benissimo Ci vede benissimo Hansen Attenzione perché adesso Il Falkenbergs ha preso Le misure Agli avversari Vasta Buon Hansen Occio Occio Non scomponiamoci troppo Torna in mezzo Nilsson Torna in mezzo Nilsson Guardalo 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 Facco No vabbè ragazzi Ma che chiusura Ha fatto facchi neri Signore no Dai ragazzi Ma di cosa parliamo Cioè si è immolato Con tutte le sue palle Guardate che roba Guardate che chiusura Cioè questo era già partito Proprio Tranquillo di segnare Mamma mia Che chiusura Bravo Facco Fuori gioco Noren 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 la trappola del fuori gioco Non te l'hanno insegnata Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che non te l'avevano insegnata Con calma Con calma Oddio Si sta portando Tira via sto pallone Vale la pena di fare delle cagate Si è portato a casa Un'altra vittoria importantissima Un'altra vittoria importantissima Ragazzi Due a uno Signori Oh Oh Bona Che partita di vede raga Che partita di vede Quarti ragazzi Quarti Quarti Stiamo scalando L'Everest Abramsen A due prestito Offerta per vede Guarda vede blocco le offerte Zacchete E Abramsen è andato Poi arriva un'offerta per il trasferimento L'Alesund Ci fa un'offerta per Söderström Che accetto Che sta calando in maniera clamorosa Salutiamo il nostro capitano Mi hanno ripetuto l'offerta per Augen Perché Augen è andato allo Sparta Rotterdam Mi fa veramente molto piacere Inizia un nuovo mese ragazzi Eeeeeee Non avevo minimamente pensato agli obiettivi Soprattutto non avevo pensato minimamente ai Malus Allora ragazzi Io questa partita me la andrei a giocare lo stesso Visto che comunque Agosto è abbastanza pienotto Nonostante il calciomercato Ehm Ma che che no Mi viene da piangere Mi viene da piangere ragazzi Cioè ve lo giuro Ho le lacrime Le vedete? Le vedete le lacrime? Le vedete le lacrime? Cioè con Leister Roma E Mjondalen If Vabbè Non so che squadra sia Eeeeee Ok Questa partita ce l'andiamo a giocare Perché ho troppo voglia di giocare Ma è stata una sorpresa Scioccante Aghiaggiande Aghiaggiande Quello che dicono Direi che possiamo andare in campo così signori Sempre sul pezzo E forza Falkenbergs Io non ci posso credere ragazzi E' molto strana la stasone in Svezia No? Attenzione qua Nilsson Ejnobativst Mi ruba il pallone Poi Nilsson Poi Nilsson Ancora Nilsson Bravo Ci siamo Mikkelsen Cioè ma Le proprietà di inserimento di V Atenzione a questa palla No Battist Occhio Bravo Turgot Beh Bjornarddorsson Lì Aveva fatto una buonissima chiusura Devo dire però che Turgot Ha tirato in maniera Rivedibile Oh ma comunque Sigur Bjornarddorsson qua Quanto è grosso E' un animale Gigantesco Bene anche coi piedi Noren Per Hansen La sblocchiamo così? Corri Hansen Mannaggia Sennò Jean-Baptiste Come se è andato bene Per fortuna che gliel'ha passata la largo Mamma che pallazza che gli ha dato Mamma che pallazza che gli ha dato Ci siamo però Ci siamo Ci siamo Cioè ci sono loro Oh cio Hansen Come è successo? Nel senso mica niente Cowell Mi sono addormentato io Sbuffa Facchinè Vabbè Non mi sembra un fallo Vabbè Insomma Sì L'ho ribaltato L'ho ribaltato 10 10 Non ha Non ha i poteri Non ha i poteri De Erlanson No No Non ha i poteri De Erlanson Andiamo Andiamo Dai ragazzi Che si può fare? Oggi stiamo dormendo Totalmente Siamo in ritardo Su ogni pallone Non riusciamo a creare assolutamente Nulla Ancora Michels Madonna Michels Hai due anni per girarti Fratello Devo fare dei cambi Lo stecco Mi ha saltato come una siepe Ancora Sei un combo Ancora Facchi neri Vai te Vai te Personalità Facco Personalità Personalità Eccola 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 Sì su fai Per Kid Cowell Avanza Cowell Avanza Cowell La può mettere in mezzo morbido Dove c'è vedone? Che ti sei mai dato un gol Ti dovresti far perdonare Ademi Mickelsen Burns Mamma mia Che giro palla Incredibile Sì lì su fai Boom Mickelsen Boom Mickelsen Non ce credo Cowell Può metterla in mezzo Occhio perché la palla Resta lì dove ce vede Per Sì lì su fai Dovevamo farlo signori Dovevamo farlo E di sì lì su fai La pareggia così È uno a uno Ce lo meritavamo Già lì su quel tiro Di Mickelsen Clamoroso Bravi ragazzi A continuare a crederci Giusto Giusto L'ho pensato anche io Facchinieri Nilsson Ma va a cagare Nilsson Vai a scoraggiare nel borotalco Che fai un polverone Attenzione perché siamo A un minuto e mezzo Dalla fine L'ultima azione per i falchi Ambrose L'ultima azione per i falchi Sui piedi di Fridolf Un controsenso Un controsenso Veramente Guarda questo Guarda questo che sta a fa' Eh no eh Eh no eh Eh no Burns fatti sentire Fatti sentire Burns Fatti sentire Fai sentire la presenza È finita È finita Vabbè ma Finita Finita Ah ecco Non so quanti minuti Vuoi dare Di recupero Finisci qui signori Pareggiotto Pareggiotto Dai che per Come si era Mamma mia Che cosa ti sei magnato Vedi qua Ma nel prossimo episodio C'è una stagione Da riscattare Perché guarda Eh poco Oggi poco poco Grande partita Di facchi neri Like Però Ha perso E quindi abbiamo recuperato Un punto Pazzesca sta cosa Io l'abbiamo recuperato Sì Signori L'episodio è in chiusura Mi raccomando Dobbiamo Scegliere Gli obiettivi Per i prossimi Tre mesi Ma soprattutto Dobbiamo scegliere I malus Il malus In realtà Perché solamente Un obiettivo Non siamo riusciti a fare Per I mesi Che verranno Quindi Se volete farmi sapere La vostra Nel frattempo Abbiamo venduto Söderstrom Se volete farmi sapere La vostra Con i malus E i bonus Io sono qua Che vi aspetto Qua è un'offerta Ah oh Il malmo Uh Gli lo diamo in prestito Raga Gli lo diamo In prestito al malmo Dai C'è già un bel valore Questo portiere C'è arrivato il resoconto Poi per Dalland Sto difensore centrale Leffort Ragazzi Sto difensore centrale Leffort Noi ci vediamo nel prossimo video Se non mi piace Commento con se Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Spero ovviamente Che questa carriera vi stia piacendo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti